Enrico Camanni è stato membro del gruppo Alta Montagna, istruttore della Scuola Nazionale di Alpinismo, Giusto Gervasutti, direttore della Scuola Nazionale di Scialpinismo Torino. È stato redattore capo della rivista della Montagna dal 1977 all'84. Nell'85 ha fondato il mensile Alp, che ha diretto per 13 anni. Dal 99 al 2008 ha diretto la rivista internazionale di cultura alpina, l'Alpe e l'edizione italiana. Dal 99 collabora con il quotidiano La Stampa nelle pagine culturali e in cronaca. Ha scritto un migliaio tra articoli, commenti, saggi sulla storia dell'alpinismo, l'ambiente, le tematiche alpine, collaborando anche con numerosi periodici, tra cui Airone, Sole 24 Ore Meridiani e Specchio. Si è contemporaneamente dedicato alla narrativa, pubblicando diversi romanzi. Ha diretto e curato l'edizione italiana del grande dizionario enciclopedico delle Alpi del 2007. Ha curato la progettazione scientifica del Museo della Montagna di Torino, del Museo delle Alpi al Forte di Bard, opera Carlo Alberto. Ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell'esposizione permanente Montagne in Movimento al Forte di Vinadio, nella Valle Stura. È stato progettista e direttore culturale di Alpi 365 Expo, il rinnovato del Salone della Montagna di Torino del 2007. Dal 2009 è vicepresidente dell'associazione Dislivelli, ricerca e comunicazione sulla montagna. Tra gli ultimi suoi iscritti ricordiamo La Montagna Sacra del 2024, un saggio, Se non dovessi tornare, La vita bruciata di Gary Henning, alpinista fragile, romanzo del 2023, e La Notte del Cervino, sempre un romanzo del 2023. François Cazzanelli, nato alla base del Cervino, è cresciuto sulle sue pareti, secondo dei principi semplici ma fondamentali, per diventare un ottimo alpinista. Il cognome Cazzanelli da parte di padre e Macchinà da parte di madre sono legati da più di un secolo al mestiere di guida alpina e all'alpinismo. Dal 2012 è membro della società guide del Cervino, ha fatto parte della sezione militare di alta montagna del centro sportivo esercito di Courmayeur, della nazionale italiana di sci alpinismo e attualmente continua a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionali di lunga distanza. Signore e signori, Enrico Camanni e François Cazzanelli. Allora, quando Alberto Senigaglia mi ha detto che c'era quest'anno il tema del limite, io, e che volevo un alpinista simpatico e importante, io ho pensato a François. Ci conosciamo da un po' di anni, ma non benissimo, ma ho subito capito che François è un po' speciale, intanto perché rappresenta, come avete anche sentito dalla biografia, una delle, diciamo, giovani generazioni delle guide del Cervino che stanno vivendo proprio un momento di rinascimento, secondo me. Io sono legato al Cervino da tanto tempo, ne ho viste un po' di tutti i colori, ma ultimamente vedo proprio un fervore, una voglia di fare cose insieme che non avevo mai visto prima. E quindi questa è la prima cosa, secondo me, fondamentale. Perché François, pur essendo uno dei più importanti alpinisti, non solo italiani, a livello internazionale, ha il dono di dividere questa sua passione. Non è un solitario, una prima donna che vuole fare tutto da solo, cerca e riesce a condividere la sua esperienza e quando vanno via anche in spedizione sono sempre un gruppo, direi, di amici, e in questo caso non è retorica. In alpinismo la parola amici si usa a sproposito, spesso, ma in questo caso vi assicuro che è così. Ed è importantissimo perché poi dall'amicizia, dalla collaborazione nascono delle cose belle, mentre dall'invidia nascono sempre cose abbastanza detestabili. E questo è un primo elemento. Ovviamente non stiamo parlando appunto di uno che la montagna la frequenta, come me, nel tempo libero. Io la frequento anche negli altri giorni, ma perché scrivo, perché faccio altro. Lui invece è proprio un professionista della montagna a tutti i livelli, dal punto di vista della professione guida alpina, ma lui è anche un professionista, diciamo, dell'alpinismo, cosa che oggi si può fare grazie a tante cose, anche al fatto che ci sono degli sponsor che un po' aiutano e poi al fatto che loro sono sempre allenatissimi, cioè loro sono degli atleti. Oggi l'alpinista di punta, poi lui mi dirà se ho detto tutto, è una serie di cretinate, è innanzitutto un atleta, cosa che assolutamente anche solo 30 anni fa non era così, perché 30 anni fa anche grandi nomi. Il primo che ha cominciato, se vogliamo, a allenarsi con metodo un po' scientifico è stato Mesner, alla fine degli anni 60, ma lo guardavano tutti come un tipo strano, perché era quello che tutti i giorni faceva i suoi mille metri di corsa in salita, quello che si appendeva alle travi del Masu per fare, oggi ci sono degli strumenti un po' più raffinati. Comunque aveva capito già, siccome Mesner, tutto si può dire, ma è certamente una persona intelligente, aveva capito che per fare un progresso in quel senso bisognava allenarsi con metodo. Però diciamo che l'alpinismo poi proprio sportivo è nato alla fine degli anni 70, inizio 80, con grandi personaggi come in Italia Manolo, per esempio, Marco Bernardi a Torino, in Francia Ed Lange, Bero, e coloro erano già degli atleti, cioè persone che almeno per un certo periodo della loro vita lo facevano professionalmente. E loro oggi sono più o meno tutti così, anche se poi quando lui va al Cervino a portare uno qualunque, ha tutta la pazienza necessaria, perché non è che lui può correre e aspettarlo in cima. E quindi il lavoro della guida pone dei limiti, ecco, cominciamo già dai limiti. Allora, questo lo dico perché avendo io proposto François ci tenevo a presentare, ho detto una parte delle cose, lui ha scalato tantissimo sulle Alpi, ma anche in Imala, e a vi dirà lui, è stato sul K2, è stato sull'Everest, ha aperto una nuova via sul Langa Parbat, ci stiamo parlando di uno che ha un'esperienza a livello mondiale. Però insomma, oggi non siamo qui, credo, per raccontare imprese, ma siamo qui per ragionare appunto su quello che è il limite per noi. Prima avete sentito, io non lo sapevo, hanno dovuto la gentilezza di leggere una mia pagina, che parla invece del limite dal punto di vista dello sfruttamento ambientale, diciamo. Ma i limiti sono tanti, e forse il punto di partenza è proprio questo, no? Noi facciamo, io lo dico anche nel mio libro, non è naturale per gli esseri umani porsi dei limiti, perché noi abbiamo una tendenza al no limit, non quello dell'orologio, ma quello del fatto di provare sempre nuove avventure, nuove frontiere, in tutti i campi, anche nel campo dell'arte, così ci fossero i limiti, addio musica, addio letteratura, eccetera. Però abbiamo anche bisogno dei limiti, l'oro, adesso ce lo dirà lui, l'oro, chi va in montagna, indubbiamente, perché la montagna pone dei limiti comunque, già solo il fatto che in piedi ti pone subito un limite, se tu non sei allenato ti incorrigi subito che non sei a camminare qua nelle vie di una città. Ma i limiti sono anche di altra natura, ce lo dice la scienza, per esempio, intanto noi siamo limitati, anche se non ci piace ammetterlo, la nostra vita ha una durata limitata. E questo è un problema, ma è anche, se vogliamo, un'opportunità, se si comincia a guardare le cose in un'altra maniera. E poi il mondo è limitato, e quindi io credo che anche chi scala gli 8000, e quindi va a toccare i punti più alti della Terra, si accorge perfettamente che la Terra, che ci sembra così sconfinata, in realtà è una Terra che noi abbiamo iperpopolato, non dappertutto, ma insomma in buona parte, e che soprattutto abbiamo ipersfruttato, perché la scienza ci dice che, sapete quel giochino che a luglio, agosto, avete già raggiunto lo sfruttamento delle risorse terrestre di un anno. Ecco, purtroppo ogni anno questa sticella va indietro. E quindi il limite ha tanti punti di vista. Bon, io volevo fare questa introduzione, dopodiché appunto lascio la parola a François. Che cos'è per te il limite? E soprattutto come l'hai scoperto? Beh, intanto ci tengo a ringraziarvi molto dell'invito qua. Tengo a ringraziare Enrico, che come ha detto, insomma, ci conosciamo da un po' di tempo e abbiamo una stima reciproca veramente importante. E lo ringrazio per le bellissime parole, perché per me spende sempre bellissime parole, per me, ma soprattutto anche per i miei amici, i miei compagni di cordata, perché negli ultimi anni, come ha detto lui a Val Tournance, insomma, a casa mia, siamo riusciti a creare tutti assieme un bel gruppo di amici. Alla base abbiamo la passione di scalare, di andare in montagna, abbiamo la fortuna di essere diventati tutti guida alpine e anche di aver avuto delle possibilità di andare in montagna e di migliorare e di viaggiare, che non è una cosa così scontatissima. Quindi da un certo punto di vista siamo anche stati privilegiati, perché siamo stati aiutati a fare ciò che amiamo. Quando mi è stato chiesto di venire qua, insomma, in un, chiamiamolo in un salotto culturale, ho un po' pensato ai miei professori alle superiori, cosa avrebbero pensato se gli avessi detto che sarei stato su un palco a parlare del limite o di tante altre cose, perché non ero uno studente modello, mi ha sempre il limite della scuola, di stare dentro un qualcosa per tante ore, devo dire che mi ha sempre, insomma, mi faceva paura. Questo lo posso fotocopiare uguale. Io mi ricordo benissimo, andavo a scuola a Châtillon al Panorama e vedevo le montagne della Valle d'Aosta, insomma, della vallata centrale e mi veniva voglia già solo quando le vedevo d'inverno di andare a sciare, insomma, di evadere da questa... e quindi, insomma, mi ha fatto strano pensare ai miei professori prima di venire qua. Quando, insomma, ho scoperto che l'argomento era il limite, ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto raccontare, perché da un lato non volevo raccontare delle banalità, ma volevo parlare delle mie esperienze, no? Allora ho cercato un attimino di fare il quadro di quello che ho vissuto fino adesso. Ho avuto la fortuna di scalare tanto dalla Patagonia all'Himalaya, al Polo Sud, all'Alaska, allo Yosemite e alle Alpi. Ho avuto la fortuna di poter esplorare i miei limiti da un certo punto di vista, però, come ha detto Enrico, noi siamo... l'essere umano è una persona che non vuole avere limiti, no? Allora io mi sento in una fase della mia vita dove voglio continuare a esplorarli e andare avanti e, diciamo, utilizzare l'esperienza che ho accumulato fino adesso. Io ho 34 anni, ma scalo in giro per il mondo ormai da più di 12. E sono guida alpina da 12. Negli ultimi anni sono anche diventato istruttore, quindi collaboro nella formazione delle guide alpine e sono un tecnico di elissoccorso, quindi pratico il soccorso alpino. E sono in una fase della mia vita dove voglio non pensare ai miei limiti personali, voglio andare avanti e vedere dove riesco ad arrivare, cioè per vivere senza rimorsi, vedere a livello sportivo dove posso, tra virgolette, arrivare. Enrico Primo ha detto una bellissima cosa, secondo me. Gli alpinisti moderni sono degli atleti. Io su questo sono molto d'accordo, perché oramai mi fa un po' ridere, perché nel mondo della montagna io ho toccato l'ambiente dell'alpinismo, chiaramente, poi quello dello scialpinismo e quello dell'arrampicata, che fanno parte della montagna ma hanno anche una nicchia un po' loro. Gli scialpinisti e gli arrampicatori, che sono due categorie opposte, hanno due cose che li accomunano, che se tu parli con qualcuno non si allena mai e con qualcuno che non fa mai la vita d'atleta, anzi no, loro. Invece poi è tutto il contrario, hanno una maschera che nasconde invece tanti sacrifici, tanti allenamenti, per arrivare ad alti livelli, sia in una disciplina che nell'altra. E questa è una cosa un po' buffa, perché in realtà se non ci si allena, non ci si prepara, non si possono ottenere i risultati. Quindi, vabbè, per tornare a noi, a questo limite, io mi sono reso conto che sono arrivato con l'esperienza maturata negli anni, con gli allenamenti, con le mie esperienze in montagna, da atleta, da alpinista e da guida, ho ottenuto dei risultati che a un certo punto ho pesato, mettiamola così, ho detto, beh, ho fatto tante cose, sono stato privilegiato, da un certo punto di vista ho pensato, o mi posso accontentare e dire continuo come sto facendo, oppure provo a migliorarmi. Però mi sono detto, per migliorare mi serve un cambiamento radicale. Allora, quest'anno ho cambiato il mio metodo di allenamento. Per la prima volta in vita mia ho preso un allenatore, io non sono mai stato qualcuno che seguiva una tabella o cosa, e mi sono fatto aiutare. Qualcuno mi ha detto, chiedere aiuto è un segno di grande intelligenza e maturità, non lo so se sia vero questo, è chiaro che mi piace anche pensarlo. E allora ho deciso di intraprendere una nuova strada, di porlo un po' come un anno zero, provare a prepararmi per andare un po' oltre i miei limiti. Però questi limiti cosa sono alla fine? Sono dei limiti mentali probabilmente, perché noi abbiamo dei limiti concreti che ci dà la montagna, come ha detto Enrico, la verticalità della parete, la lunghezza e tante cose, però poi la fatica. Però poi noi possiamo superarli con uno sforzo mentale e sta tanto lì la differenza secondo me tra dove può arrivare l'uomo e dove può arrivare l'alpinismo. In più ci sono altri fattori. Gli alpinisti sono atleti, però l'alpinismo a me piace più pensarlo come un'arte, come possiamo definirlo, come un modo di vivere. Tante persone ti dicono ma gli spazi sulle pareti sono finite, non si può più scoprire nulla. In realtà io non sono contrario, perché non sono favorevole a questo, la vedo in maniera diversa. L'alpinismo è un gioco talmente bello che non avrà mai un momento di fine. L'unico momento di fine che vedo è quando gli alpinisti finiranno la fantasia, si spegnerà quella scintilla di vedere quello che gli altri non hanno saputo vedere fino a questo momento. E secondo me è questo che alla fine ci spinge a voler superare ancora una volta i nostri limiti. Proprio quello che lui diceva adesso è importantissimo, perché l'alpinismo è una storia un po' strana, quella dell'alpinismo, che è molto diversa, cioè da un lato è chiaramente fusa con la storia della società, nessun alpinista vive fuori dal suo tempo. Però è un po' strana, perché l'alpinismo innanzitutto, come diceva un famoso alpinista degli anni 50, è l'arte dell'inutile, cioè non si conquista niente, anche se per un lungo periodo si è parlato di attacco, conquista, vittoria, ma sono tutte parole retoriche, perché quando tu hai scalato una cima inviolata, che è un'altra parola orribile, comunque non salita, che cosa porti a casa? Una soddisfazione, un'esperienza. Non è che il mondo ti ringrazia perché tu hai fatto quella cosa lì. Primo. Secondo, si corrono dei rischi, e poi di questo magari parleremo, e anche questi rischi nessuno ti ripaga. A volte succede la disgrazia, e spesso anche come giornalista mi viene chiesto chi ha sbagliato, che cosa è successo. Io dico, beh, magari non è successo niente, nel senso che la montagna è imprevedibile, c'è un margine di imprevedibilità, ed è proprio per quello che ci andiamo, perché io fossi nato nell'era dell'arrampicata su plastica, non sarei mai diventato uno scalatore della plastica, perché non mi interessa, perché è troppo prevedibile. Quindi il rischio non di morire, ma anche solo il rischio di perdersi, il rischio di sbagliare, il rischio di dover tornare, è il sale di questa avventura, ed è un limite, però è proprio il limite che genera il fascino, secondo me. E la storia dell'alpinismo, se voi la leggete da quando è nata, intorno a un po' più di 200 anni fa a oggi, è sempre stata una cosa, come diceva lui, cioè a un certo punto sembrava morta, perché magari lui lo sentirà dire oggi, io lo sentivo già dire 30 anni fa, ma chi era più vecchio lo sentiva già, credo, un secolo fa, e adesso cosa si può ancora inventare, adesso che cosa si può fare, è stato fatto tutto, è successo quando hanno scalato le grandi pareti, poi quando hanno scalato gli 8000, sempre, continuamente è successo. A un certo punto arrivava un nuovo alpinista, un giovane alpinista, che più che capacità e forza atletica, aveva appunto lo sguardo, la fantasia, cioè vedeva, come ha detto François, quello che gli altri non avevano visto prima, ed è quella la molla. E generalmente la cosa interessante, che la rende diversa dalla storia, per esempio, del capitalismo, è che questo sguardo di solito portava con sé una scelta, cioè togliamo un po' di tecnologia, togliamo un po' di chiodi, togliamo un po' di mezzi tecnici, perché questo ci consente di andare oltre. Ed è sempre stato così, se voi leggete la storia, che è molto interessante, in ogni momento arriva uno che fa questo passo. Per esempio all'inizio del secolo si chiamava Paul Preuss, questa persona, ed era un austriaco, che purtroppo poi è morto arrampicando da solo, quindi ha preso i suoi rischi. Però lui sosteneva che troppi chiodi, i chiodi, troppa corda, troppi ausili tecnici, erano un limite. Poi chiaramente, ognuno fa le sue scelte, per carità a nessuno, è la bellezza che è libera a questa attività. Però grazie a Preuss c'è stato un rilancio, per esempio, dell'arrampicata libera. E poi è successo un sacco di volte, citavo Mesden prima, nel 68, era il clou di quella corsa alle scalate, alle direttissime, si chiamavano, che erano realizzate attraverso l'uso di tanti chiodi a pressione, che sono dei tasselli, per cui praticamente i grandi dolomitisti avevano forato delle pareti, anche tutte strappiombanti, facendo delle vie che a vederle così il profano diceva che robe pazzesche. In realtà erano più dei lavori di fatica, di carpenteria, che di alpinista, che di arrampicata. E Mesden ha scritto un articolo che è rimasto importante, lo è ancora oggi, che si intitolava L'assassinio dell'impossibile, nel 68, sulla rivista del CAI, la rivista Paludata, però questo articolo, a noi che eravamo, io ero troppo giovane, ma ai giovani gli ha fatto brillare il sangue di nuovo nelle vene, perché ha detto è certo, è proprio così, noi dobbiamo cominciare a togliere un po' di ferramenta e vedrete che l'alpinismo riparte. E infatti è ripartito. E poi è sempre stato così. Le spedizioni malayane, per esempio, le prime erano delle cose, degli eserciti che andavano all'assalto delle montagne, c'erano centinaia di portatori, spesso piedi nudi, perché era gente che veniva sfruttata nei modi più biechi e portavano carichi pazzeschi, poi c'erano gli alpinisti che erano tanti, poi c'erano i medici, poi c'erano i cuochi, poi c'era un sacco di gente. Quindi erano 300 persone che assaltavano una montagna e magari ne arrivava in cima una. Ecco, negli anni 70, per esempio, è successo che gli alpinisti più bravi, inglesi, per esempio, Borman, Tasker, oppure anche italiani, Macchetto, alcuni alpinisti giovani hanno detto basta, noi non ne possiamo più di queste cose perché ci sembra di fare il servizio militare, non è più andare in montagna. E quindi hanno cominciato ad affrontare anche le montagne più difficili in gruppetti da due, tre, quattro persone. E così è ripartita la storia dell'Himalaya, che se non sarebbe morta lì. E probabilmente oggi quell'alpinismo che si realizza su certe cime come l'Everest, poi ci dirai cosa ne pensi perché tu ci sei stato e lo chiamiamo alpinismo commerciale non a caso, insomma, è un'altra cosa. E anche qui io non voglio mai demonizzare perché tutti hanno il diritto di fare se lasciano la montagna possibilmente come l'hanno trovata, forse lì non succede più. Ma in ogni caso non è più quell'alpinismo di ricerca che è stato nei decenni precedenti. Ecco, quindi questa è la cosa interessante dell'alpinismo, cioè come se avesse una valvola un antidoto che si mettono gli alpinisti stessi perché regole non esistono per cui a un certo punto qualcuno dice ma ragazzi qui siamo andati oltre perché noi oggi siamo in grado di asfaltare le montagne potremmo ferrarle tutte potremmo fare le autostrade nelle valli tutto possiamo fare con la tecnologia però con quello uccidiamo l'ambiente la natura l'alpinismo e soprattutto noi stessi uccidiamo la poesia uccidiamo quello che noi cerchiamo in montagna e questa è una bella metafora secondo me per la società in genere e quindi volevo solo fare questa precisazione perché parliamo di limite ma non è soltanto filosofia è proprio una delle dimensioni che ha connotato l'evoluzione dell'alpinismo non so se sei d'accordo ma sono pienamente d'accordo ripartirei un secondo dall'inizio del discorso di Enrico intanto sono pienamente d'accordo con lui quando dice che insomma quando Lionel Terre ha scritto il suo libro i conquistatori dell'inutile è una verità secondo me sacrosanta cioè non ci dice il medico di andare in montagna lo facciamo per divertirci a me è un'altra parola orribile che non mi piace quando dicono impresa l'alpinista ha fatto l'impresa infatti tutte le volte quando mi dicono impresa mi viene male mi vengono in mente i cavalieri con l'armatura che partivano a conquistare chissà che cosa noi andiamo in montagna per divertirci per divertirci per vivere un qualcosa a me questo qualcosa piace condividerlo con dei compagni con degli amici fidati ma anche con chi si affida a me come guida alpina per essere accompagnato e questo qualcosa indipendentemente dal risultato che si ottiene sarà un qualcosa personale sarà un'esperienza intima che ci porteremo dentro tutta la vita poi è chiaro ci saranno quelle positive ci saranno quelle negative ci saranno quelle che ci avranno segnato di più e ci saranno quelle magari che non si ripeteranno perché non è scattata una scintilla ma è quello che vivi quando sei in montagna non quello che ottieni secondo me l'importante per quanto riguarda la storia dell'alpinismo la storia dell'alpinismo è monotona sotto un certo punto di vista si è fatto prima hanno conquistato le Alpi poi si è passati all'Himalaya e alle altre montagne del mondo sempre con una sorta di ripetizione si è usato prima tanto materiali sono usati mezzi di un certo tipo mezzi pesanti per poi andare pian pianino ad alleggerirsi per tornare al discorso di prima di Enrico su quello che succede oggi sull'Everest o sulle grandi montagne del mondo secondo me l'alpinismo ha un limite al giorno d'oggi ma ce l'ha sempre avuto ed è un limite di come raccontarlo l'alpinismo perché ogni tanto secondo me si fa fatica a distinguere che cos'è alpinismo e che cos'è come ha detto Enrico turismo d'alta quota o io ci sono stato sull'Everest cosa succede io ho visto cosa succede io ho accompagnato nel 2018 un cliente sull'Everest come guida e onestamente a livello personale la considero una delle più belle esperienze che ho mai fatto a livello professionale accompagnare una persona sul tetto del mondo ho dei ricordi splendidi è stata un'emozione forte si può discutere secondo me sul modo in cui si fanno queste cose e si può anche discutere su come lo si può migliorare poi sono d'accordo anch'io con Enrico che ognuno è libero di fare quello che vuole a patto che lasci la montagna come l'ha trovata e questa è una cosa soprattutto per certi tipi di spedizioni che non succede io ho accompagnato un cliente sull'Everest io sono una guida alpina del Cervino le guide alpine del Cervino nel 1865 dopo la conquista del Cervino hanno messo le corde fisse sul Cervino per accompagnare e lo scriveva come si dice Jean-Antoine Carrel accompagnare i futuri viaggiatori i futuri clienti quindi creare un qualcosa attorno a una valle molto povera noi abbiamo costruito le funivie abbiamo costruito le strade cioè i rifugi abbiamo addomesticato la nostra montagna quindi dire magari ai nepalesi o a dei popoli che vivono realtà diverse alle nostre che non lo possono fare io non me la sento sono una guida mi guadagno da vivere accompagnando le persone in montagna e ne provo estremo piacere perché il nostro mestiere è bellissimo noi aiutiamo le persone a realizzare i propri sogni una persona che ha un sogno quello di scalare una montagna una qualsiasi vetta che non sia il Cervino il Monte Bianco ma anche il Grand Tournalen lo Chateau de Damo o delle vette secondarie o qualsiasi cima noi abbiamo la possibilità di aiutarli a realizzare questo sogno come? gestendo al meglio i rischi e la sicurezza le guide alpine non garantiscono la sicurezza io non potrò mai garantire a nessuno che lo porto in montagna a rischio zero io si vedeva una volta le pubblicità delle guide con le guide in montagna sicuro te lo ricordi Enrico questo è è una cosa è una frottola noi abbiamo un'esperienza e possiamo gestire i rischi della montagna ma come non possiamo dire di andare a rischio zero in macchina o in qualsiasi nostra attività men che meno in montagna per tornare al discorso dell'Himalaya io non mi sento di dire che è sbagliato che le persone o che gli Sherpa in questo caso accompagnino i loro clienti o i turisti sugli 8000 o sulle loro montagne poi sul modo che lo fanno possiamo parlarne possiamo discutere possiamo dire tante cose quello che io trovo che adesso è un limite è che si fa una grossa confusione oramai basta pubblicare una bella foto in cima all'Everest che una persona acquisisce una notorietà acquisisce una fama incredibile per questo scatto ma poi non si parla di come è stato fatto questo scatto e di come si è arrivati a farlo a un certo punto io ho un giornalista di montagna che continuava a postare gli arrivi in vetta di queste persone con gli Sherpa l'ossigeno e le corde fisse sugli 8000 gli ho detto ma perché non lo fai anche con tutti i clienti che accompagniamo sul Cervino d'estate qual è la differenza tu Enrico cosa ne pensi di questo ah no la differenza non c'è in Himalaya si sta ripetendo quello che abbiamo fatto qua saremo anche degli ipocriti visto che gli abbiamo portato noi tutti questi begli esempi e li abbiamo anche usati per un bel po' di anni usati loro cioè gli occidentali usava l'orientale lo sfruttava insomma adesso non è che possiamo andare lì a fargli la morale è chiaro che fa fa impressione vedere centinaia di persone incolonnate sulla via nepalese dell'Everest poi adesso qualche volta succede anche su altre montagne fa impressione soltanto perché noi l'Everest ancora ce l'immaginavamo come era fino a qualche decennio fa cioè come un luogo misterioso e selvaggio ma non lo è più è quello che dicevo prima noi possiamo domesticare tutto noi oggi abbiamo delle tecnologie delle capacità di costruire ma anche di distruggere spaventose purtroppo lo vediamo nelle guerre che ci circondano e quindi sarebbe anche qui mio penò a stupirsi per cosa capita sull'Everest quando sulle nostre montagne capitava già cento anni fa insomma il Cervino il Dente del Gigante un sacco di montagne sono state addomesticate proprio perché le guide potessero accompagnarsi i clienti ma non solo perché poi tutti abbiamo beneficiato di quelle attrezzature pensate che il Dente del Gigante è stato scalato nel 1882 quindi un bel po' di anni fa e ancora oggi se non ci fossero le corde fisse sarebbe una scalata non difficilissima comunque impegnativa grazie alle corde fisse lo fanno quasi tutti quelli che sono un po' acclimatati e che sanno arrampicare fino al terzo grado quarto e quindi ecco questo fa la differenza anche il Cervino sapete che pensate che il Cervino ancora oggi senza corde fisse io credo che da cento persone che lo salgano si scenderebbe non so a cinque anche meno anche meno perché non è una cosa semplice il Cervino cioè i suoi antenati e anche in questo caso gli inglesi i wimper e gli altri erano bravissimi perché nel 1865 salire il Cervino con le corde di canapa con gli scarponi chiodati e con nulla di più cioè con dei maglioni di lana e delle giacche come questa qua che ho io adesso beh non era certamente confrontabile col farlo oggi a parte le corde fisse con tutto il popolo di attrezzature e anche di conoscenze noi sappiamo che alle 4 e un quarto pioverà allora non sapevano nulla andavano veramente all'avventura quindi è vero quello che è capitato sulle Alpi sta capitando di là e magari capiterà in parte sta capitando anche in Patagonia dove una volta erano ambienti mitici ancora quando Mesner vi ricordate Herzog avevano girato quel film a grido di pietra era ancora impressionante vedere una persona filmata dall'elicottero in cima al serotorre e in quel caso era Vittorio Mezzogiorno il papà di Giovanna che quello della piovra che era il protagonista di quel film non l'avevano lasciato lì però in quel momento c'era solo lui per cui io mi ricordo l'emozione di vedere un uomo solo su questa cima con l'elicottero oggi un amico di François che si chiama Matteo della Bordella ha fatto una bella via sul serotore nuova erano in tre si sono portati il drone e arrivati in cima hanno fatto volare questo drone e hanno realizzato delle immagini bellissime perché oggi è quasi consuetudine ormai avere questa cosa quindi il mondo cambia il problema è probabilmente appunto porre dei limiti da un punto di vista etico e poi soprattutto da un punto di vista ambientale perché anche in Imalaia si stanno verificando delle situazioni ovviamente sempre molto più simili a quelle nostre mentre una volta ci andavano in pochi oggi ci vanno in tanti però anche qui dov'è che noi dobbiamo dire basta dov'è che possiamo dire a una persona tu non ci vai più perché ce ne sono già 500 che hanno avuto il permesso è un problema vedete cosa è capitato con Venezia quando è stata proposta una tassa di ingresso e non so poi quanto sia stata efficace non ho idea però è ovvio che c'è un limite a tutto cioè noi non potremmo andare in 10.000 sull'Everest però a un certo punto decidere chi è che decide non siamo Dio che dice tu sì e tu no e quindi sono problemi sempre più attuali sempre più importanti e a mio parere a me fa ancora più impressione più dell'Everest per esempio il fatto che quando è uscito a un passo dal cielo sulla televisione il lago di Braies dove Terence Hill cavalca in ogni puntata è diventata la meta principale dell'Alto Adige perché l'abbiamo visto tutti in tv allora non c'è niente di male da fare la coda aspettare magari tre ore per vedere il lago però trovo che qui veramente c'è un deficit di fantasia perché anche le persone comuni anche il turista dovrebbe avere degli scatti di fantasia se noi diventiamo tutti delle macchine da ingrasso come nel film dei Pink Floyd che poi veniamo tritati beh c'è un triste destino per l'umanità ma questo non vale solo per l'alpinista di punta vale per tutti per cui ecco qui diventa sempre più importante più che il limite la cultura la conoscenza la fantasia ma anche la conoscenza perché è difficile avere fantasia se non conosci una questione una materia un ambiente tendi a accodarti tendi ad andare dietro e quindi questo mondo che sembra il più securitario intanto quando poi come dice lui i rischi restano che sembra tutto così organizzato per cui io programmo il mio viaggio e mi cazzo se non mi danno quel piatto che mi avevano promesso perché c'è un altro insomma tutto è definito è proprio invece il mondo che avrebbe più bisogno di uno slancio di fantasia di un salto di fantasia questo è il mio punto di vista ma non è applicato all'alpinismo soltanto è applicato a tutto e devo dire che per esempio nel mestiere che faccio io che mettere insieme le parole grazie a Dio ci sono solo io il computer e quindi la fantasia ha piena libertà beh io concordo con quello che ha detto Enrico è un pensiero che condivido vuoi anche dire che non sei d'accordo qualche volta no ma anche tu no però volevo aggiungere due cose la prima secondo me noi c'è una grossa differenza su chi frequenta la montagna al giorno d'oggi chi lo frequentava diciamo 200 anni fa 150 ok le prime guide che scalavano il Cervino perché lo facevano perché di fatto era più remunerativo e portava ad innalzare il proprio livello di vita accompagnare un cliente su una montagna che coltivare la campagna o che allevare le vacche ok c'è un dato molto importante che a me me l'ha fatto notare Don Paolo il parroco di Val Tournage che prima della conquista del Cervino parliamo del 1865 a Val Tournage c'erano circa una quindicina di guide ok voi penserete come fa a saperlo il parroco quante guide c'erano è una cosa che io non ci avevo mai pensato ma in realtà è logica adesso noi abbiamo l'ufficio guide c'è internet se vuoi trovare una guida basta che googli qualsiasi cosa e lo trovi una volta uno arrivava al Tournage voleva attraversare il colle del Teodulo andare in Svizzera come faceva dove trovava una guida non c'era il campanello con scritto guida alpina disponibile si andava in chiesa era il parroco che aveva l'elenco delle guide e mandava le persone a seconda della loro richiesta presso le guide comunque sia tra l'anno prima della conquista del Cervino c'erano 15 guide l'anno dopo la conquista del Cervino le guide si sono triplicate ce ne erano 45 si distinguavano in tre categorie guide portatori e le guide alpine col mulo perché chi aveva un mulo che poteva portare i bagagli dei clienti era un valore in più molto importante all'epoca quindi fondamentalmente si sono attuate certe tecniche si è scalato le montagne in un certo modo ma perché forse allora non c'era ancora lo si faceva più per un bisogno per poter crearsi un qualcosa che alzasse la qualità della vita e in Himalaya si è un po' riproposta questa cosa perché se tu sei uno scerpa di un povero villaggio dove coltivavi la campagna avevi poco da fare forse andare a fare lo scerpa o la guida ad alta quota ti portava un certo tipo di reddito ti innalza la tua qualità della vita stai meglio e allora non guardi tanto al come lo fai ma lo fai perché ne hai bisogno noi però oggi abbiamo una possibilità diversa perché alla fine della fiera noi non andiamo in montagna per mangiare poi sì fare la guida è un mestiere ci mancherebbe ma possiamo anche scegliere come farlo e come viverlo Enrico ha detto una cosa prima che ormai la vita di oggi uno si incazza se ha ordinato sei mesi prima il piatto di spaghetti quella determinata sera quando va a fare un viaggio invece gli arrivano le polpette e non la nostra vita oramai va così noi oramai vogliamo sapere cosa facciamo qualsiasi minuto qualsiasi ora qualsiasi io prima scendendo in macchina qua ho parlato con una mia cliente che vuole scalare il dente il gigante mi dice François cosa faccio prenoto il 23 sera all'albergo a Courmayeur no aspetta un attimo come prenoti il 23 sera eh sì io sono in ferie dal 23 al primo luglio gli ho detto guarda facciamo una cosa quello lì è il periodo poi quando prenotare l'albergo magari fallo il 20 perché io non posso dirti che il 22 luglio il 22 giugno ti porto sul dente il gigante magari fa brutto tu prenoti l'albergo e siamo di nuovo da capo no far passare questo messaggio alle persone io trovo che è difficilissimo però poi quando fai ragionare le persone capiscono questa cosa gli si apre un mondo perché vivono un'avventura sotto un'altra dimensione no e secondo me questa questa qui è la libertà che la montagna ci può un po' ancora dare no magari la montagna scandisce dei ritmi che forse per una volta non siamo noi a scandire ma è la natura noi dovremmo imparare a seguirli ad ascoltarli per poterla affrontare nel migliore dei modi questo è una di quelle cose che mi tengo stretto del mio mestiere e del del mio alpinismo ecco solo una battuta io so che quest'estate se voi volete scalare il monte bianco dal rifugio del gutè non troverete posto perché è tutto prenotato anche sul monte rosa o il gran paradiso aggiungi ecco questo da un lato ci fa capire quanto la montagna oggi è frequentata a tutti i livelli perché poi un'altra caratteristica della contemporaneità è che si fanno un sacco di cose in montagna una volta si camminava e si arrampicava adesso si va in bici si fa parapendio si fa canoa si fa una marea di sport il che è positivo ma indubbiamente il numero è cresciuto in tutti questi campi allora il problema però non è soltanto che c'è troppa gente e c'è tanta gente il problema è che vanno tutti lì perché i 4.000 sono più di 60 mi pare sulle Alpi e io credo che quelli più frequentati siano una decina perché gli altri non fanno non fanno selfie non fanno audience non fanno social e quindi ma belli come il Monte Bianco ce ne sono un sacco per cui è un problema ripeto di nuovo di fantasia e allora questo può essere anche uno stimolo il fatto che tu non possa andare lì perché ci vanno tutti magari vai in un altro posto scopri un'altra valle e come la tua cliente scopri anche un'altra modalità di approccio un'altra cosa è che una volta si partiva perché non c'erano previsioni molto attendibili e si andava in rifugio sempre con qualunque tempo sperando che il giorno dopo il tempo sarebbe migliorato oggi mi dicono i rifugisti che se le previsioni danno brutto tempo loro sono vuoti mentre sono stracolmi quando il tempo è bello anche questo è chiaro che noi abbiamo le ore contate che noi ci piace non perdere tempo però sinceramente io che ho passato tante notti sotto la pioggia per esempio nei bivacchi che la pioggia la senti di più perché i bivacchi sono di latta e quindi picchia forte o la grandine io me ne ricordo benissimo quelle notti e non le considero delle esperienze fallimentari anzi essere in un bivacchetto da tre persone in una semibotte con il temporale sulla testa sapendo tra l'altro che non ti becca perché il fulmine non colpisce i bivacchi erano fatti apposta non è un'esperienza a cui io rinuncerei facilmente mentre passare una notte in un rifugio con 200 persone dove tutto è programmato e alle 4 meno un quarto c'è la sveglia alle 4 un quarto si parte e se non parti ti danno una pedata perché comunque sei fuori dalla riga ecco non è un'esperienza altrettanto costruttiva dal mio punto di vista no no sono d'accordo anche questa volta scusate poi litigheremo dopo vi assicuro che non l'abbiamo fatto apposta non ci siamo preparati nulla però io aggiungo una cosa a quello che ha detto Enrico l'anno scorso io sono stato in spedizione in Pakistan per provare il pilastro est dell'Ogre l'Ogre è un 7000 mitico del Karakorum scalato per la prima volta da Chris Bonington e Doug Scott dopo una salita epica e da allora la discesa soprattutto da allora scalato solo ancora un'altra volta dai fratelli Uber poi mai più scalato parliamo dagli anni 70 ad oggi questo perché ha un clima particolare dietro a un ghiacciaio molto grosso che crea delle umidità importanti e quindi essendo la montagna più grossa della zona tutto le perturbazioni si scontrano lì comunque il fatto sta che l'anno scorso ho passato ben 20 giorni dal campo base sotto la pioggia e vi assicuro che ancora peggio del bivacco stare in tenda quando piove perché tu sei lì e senti cic 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 tornato a casa avevo delle conferenze e delle persone mi hanno chiesto ma come hai fatto a stare tutti quei giorni lì scollegato dal mondo e dove non avevi contatto non potevi lavorare non sapevi ma perché non ti vuoi portare internet o le cose al campo base che adesso si usa tantissimo io ho detto ma voi siete fuori ho detto già ce l'ho tutti i giorni sto telefono suona adesso sono qui seduto con voi ho già suonato due volte in tasca ma a figure se vado in spedizione mi porto ancora il telefono e penso a lavorare penso ai clienti penso alle cose lì mi vivo l'esperienza che ho e questa è una di quelle cose adesso ho sempre un altro cliente che accompagna in montagna è arrivato da me perché vuole scalare al sogno delle pareti nord Cervino Eiger e Gioratti gli ho detto io ti aiuto molto forte fisicamente però mettiamo delle regole perché abbiamo fatto la prima gita e lui continuava con il tuo telefono poi arrivo giù apro Instagram 800 storie dico ma ma che cavolo stai facendo eh no sai così mia mamma vede che sto bene gli faccio no ascolta adesso no così mia mamma è tranquilla no aspetta un momento il tuo ego è tranquillo esatto allora adesso mettiamo le regole se vieni in montagna con me chiami tua mamma gli dici guarda sto partendo con François sono in funivia e la richiami al parquet se vuoi la chiami in cima ma non esce più una storia patti chiari amicizia lunga adesso è vero che arriva in funivia e io da lì in poi il rapporto umano è finito perché inizia a fare 800 storie eccetera però dobbiamo anche imparare a non essere schiavi di questi di questi strumenti social internet sono dei grossi strumenti secondo me si possono fare delle grandi cose ma si possono fare anche delle enormi cavolate secondo me se ne può abusare io personalmente non vedo alpinisti o persone che fanno il mio stesso mestiere che ogni tanto postano una foto di un bel tramonto di una bella alba e riescono a scrivere giù un poema io non ce la faccio portate pazienza sono fatto così scrivo quando ho qualcosa di concreto da raccontare un'avventura una salita ma anche un aneddoto che ho vissuto però non riesco troppo a sforzarmi di vedere il tramonto l'ho visto è stato bello sì egoisticamente è stato mio però a quel momento e faccio fatica a raccontare di una cosa che è stata così veloce così bella sulla carta cioè sulla carta sullo schermo tante volte non si ha tempo di apprezzare questa cosa che la bisogna già postare e questo è uno dei limiti più grossi della nostra società secondo me io dico ancora una battuta e poi abbiamo lo spazio per voi c'era Saint Texiperi quello del piccolo principe grande scrittore che una volta appunto in una specie di manualetto per gli scrittori diceva volete descrivere un tramonto bene dimenticatevi la parola rosa la parola magnifico cioè il concetto era il tramonto deve emergere dal racconto non bisogna dire è stato bellissimo si è tutto tinto di viola e poi è diventato un po' rosa e poi è diventato un po' verde perché quello ha ammazzato il tramonto ecco come lo diceva lui questo vale per tutti noi io direi grazie 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 a tutti